Allora, eravamo rimasti alla use effect, giustamente qualcuno ha già provato a usarla, magari perché ha già provato a trafficare in react, a fare delle cose eccetera, adesso la vediamo bene e poi la proviamo nella pratica, su un esempio non collegato alla nostra applicazione e poi inseriamo nella nostra applicazione l'ultima parte di questa mattina, questa use effect per fare il caricamento dei dati dal server. Ok, dicevamo prima che bisogna fare attenzione a quello che vogliamo eseguire durante la fase di render, che quindi è la fase in cui react ci chiama la funzione che definisce il nostro componente, quindi va a calcolare il return e così via, e invece la fase in cui, prima abbiamo visto qui sotto, si fa l'aggiornamento del DOM, in cui possono girare i side effect, cioè il codice che noi passiamo alla use effect come codice da eseguire non in fase di render ma al verificarsi di determinate condizioni, che adesso specifichiamo meglio. Ecco, vi dico due parole solo sulla use effect e poi vediamo gli esempi e li proviamo. Allora, intanto è un'API di react abbastanza complicata, densa, perché può fare tante cose, ha solo due parametri, ma le opzioni gestibili con questi soli due parametri sono tanti. Allora, il primo parametro è una callback, come sempre, l'abbiamo già visto, se vogliamo eseguire del codice è l'unico modo in javascript per dire a qualcun altro di farlo e passare una callback. Questa funzione deve contenere ciò che vogliamo fare, i side effect, gli effetti collaterali. La callback può anche ritornare una funzione essa stessa, che sarà usata eventualmente da react per ripulire qualcosa, quindi togliere il set di un timeout, piuttosto che altre cose, altri effetti collaterali che abbiamo creato, nel momento in cui il componente venisse smontato. Questo lo dico per completezza, di solito a noi non capita questa necessità, ma potrebbe in rari casi essere necessario. Il parametro più interessante sono le dipendenze, che ci dicono quando eseguire ciò che c'è scritto nella callback. E queste dipendenze sono un array opzionale con la lista delle dipendenze per le quali, quando cambiano, è necessario rieseguire la callback. E queste dipendenze di fatto sono variabili che sono visibili dove abbiamo messo la use effect. Di solito sono props, quindi props del componente. Quindi abbiamo tre possibilità per l'array delle dipendenze della use effect. Uno, non fornirle. Il side effect, quindi nella callback, viene richiamata dopo ogni rendering. Se volete è un po' come se avessimo messo il codice direttamente dentro la funzione che implementa il nostro componente. La differenza è che in questo caso il codice gira dopo che è stato effettuato il render, non durante il render. Devo dirvi che in questo primo caso è abbastanza raro, non quasi mai lo useremo. Il secondo caso invece è molto usato. Un array, quindi non niente, ma un array vuoto. Il side effect gira una sola volta, dopo il render iniziale. Quindi c'è il mount, c'è il primo render, viene fatto il primo render e il side effect viene chiamato, quindi la callback viene chiamata una sola volta. Quindi questo per esempio potrebbe essere utile, lo useremo noi, per caricare i dati all'inizio. Viene creato il componente app, mettiamo array vuoto, dopo che viene fatto il render di app, andiamo a chiamare la nostra callback, carichiamo i dati e poi li impostiamo nello stato. Lo facciamo verso la fine della lezione. Oppure può essere necessario specificare un insieme di dipendenze, quindi uno più variabili che possono essere props o stati del componente. Quindi variabili visibili all'interno del codice del componente, ovviamente. Quindi la callback viene chiamata comunque, ricordatevi, comunque almeno una volta, cioè no scusate, una volta dopo il rendering iniziale. Quindi esattamente come prima, ma anche tutte le volte che almeno uno di questi valori è cambiato. Quindi se cambia uno stato, cambia uno props, la callback viene richiamata automaticamente da react. Quindi vuol dire che react ogni volta che finisce il render va nella seconda fase qui sotto, va a vedere qual è il valore di props, delle props specificate nella lista di dipendenze degli stati. Se sono cambiate rispetto a prima, chiama la callback. Se sono rimasti uguali, non la chiama. A meno che non fosse la prima volta. Vedremo più avanti a cosa ci può servire questo comportamento. Quindi, non fornito, quello che scriviamo viene fatto girare sempre, dopo il render. Fornito vuoto, gira una volta dopo il primo render. Forniamo delle dipendenze, gira una volta dopo il primo render e gira ogni volta che le dipendenze cambiano. Non è troppo difficile ricordare, però capite che è comunque un API che ha diverse possibilità di utilizzo. Quindi bisogna fare un po' attenzione. Ok, quindi andiamo a vedere questi esempi. Io ve li ho messi a disposizione. Oggi non finiamo questo set di slide perché è troppo ampio, però almeno la prima parte la vorrei finire. Quindi noi andiamo a vedere, no, in realtà devo aprire, quindi devo aprire il code. Che non ho ancora aperto stamattina stranamente. Quindi chiudiamo tutto. In realtà non lo avevo close fold. E apriamo il nostro viso. La nostra cartella week 11. Prendiamo pure questo. C'è tutto. Quindi noi abbiamo questo slide examples che trovate su github. Ecco, da adesso in poi avremo sempre due cartelle dentro i nostri progetti. C'è il client e c'è il server. Perché adesso dobbiamo far parlare client e server insieme. Anche se in questo primo esempio, primissimo, di use effect, lavoriamo solo sul client, ma poi dal secondo, terzo in poi, cominciamo ad avere il server. Quindi noi abbiamo un client, che ha un'app normalissimo, di questo tipo, che ha fondamentalmente un div con quattro componenti, che sono quelli che sono riportati sulle slide. Quel grit e grit bad che abbiamo visto prima, il count, quick gate, eccetera, che adesso andiamo a discutere. Noi facciamo funzionare tutto quanto. Allora, apriamo il terminale e nel terminale noi entriamo nelle cartelle corrette. Quindi slide examples client npm run dev ok poi un secondo terminale ci serve quindi ve lo faccio vedere così sapete come fare in laboratorio per il server e noi abbiamo nodmon server.js perché l'ultimo esempio usa il server quindi se carico l'applicazione non voglio che si pianti sul primo terminale adesso si apre firefox spero, sì ok questa è l'applicazione sono veramente cose banali cioè sono quattro componenti non li potete anche vedere dove? dal react components quindi grit, count, eccetera, eccetera allora per ora ci concentriamo sul primo componente dove è la console? eccola qua ok allora ricarico il primo componente quindi qui mi viene scritto greeting selo enrico main static static number e dynamic number è 3 ok va bene però cominciamo col greeting selo enrico allora il componente grit è nel suo file che cosa fa? questo è quello che sto usando message use effect console log greetings message con aperta e chiusa quadra ok quindi use effect ho passato una callback vedete aperta e chiusa tonda freccia una callback con del codice un console log che mi stampa il messaggio che è una props ok però a me interessa che sia una props a me interessa che c'è un console log e voglio vedere quando avviene e guardo sulla console quando avviene qui ho messo aperta e chiusa quadra che vuol dire solamente nel momento in cui il componente fa il primo render ok quindi quando carico l'applicazione adesso ricarico l'applicazione la prima volta faccio questa operazione e viene stampato greeting sello Enrico ok perché ne vengono due allora ne vengono due perché noi stiamo lavorando in strict mode di react ok quindi non è una questione della use effect ce ne verranno sempre due io vi invito a non disabilitare lo strict mode anche se potreste però se voi andate a vedere in main.js il template prevede questo strict mode questo strict mode fa una serie di controlli addizionali solo in fase di sviluppo quindi se voi creaste il bundle come dicevamo stamattina fate l'applicazione mettere da qualche parte in produzione eccetera questa cosa non avviene più ok però adesso ci accontentiamo lo sappiamo e sappiamo che viene chiamato due volte la callback della use effect perché il componente viene renderizzato due volte all'avvio ok quindi quando viene montato per causa di questo strict mode però vi invito a lasciarlo anche se c'è da questo piccolo chiamiamolo così fastidio perché ci può dare dei messaggi di warning importanti quando sviluppiamo i react magari abbiamo fatto un po' di pasticci con vari use effect use state eccetera ok quindi è come se questa seconda parte non ci fosse va bene il resto viene stampato dal componente di sotto il bottone che in questo momento non ci interessa io però voglio farvi vedere che cosa succede quando il componente cambiamo qualcosa nella pagina quindi negli altri componenti quel componente non viene più renderizzato ok io adesso sto schiacciando il bottone per far cambiare qualcosa nella pagina non ci interessa cosa viene scritto in questo momento la stampa non avviene più ok se io avessi ho usato il grit bed dove ho messo il console log direttamente dentro il codice e non in una use effect andiamo a farlo grit bed quindi salvo allora ricarico ok allora intanto vedete che ci sono già due stampe ok perché diversamente da prima allora c'è una stampa che è avvenuta quando dove è andato il componente grit bed ha fatto il primo render prima di ritornare il jsx quindi in una fase diversa dalla use effect e poi c'è la seconda stampa che è avvenuta col secondo render che è quello che vi dicevo prima che React ci fa in strict mode tutte le volte che crea un nuovo componente ok che si è stato messo in grigetto penso semplicemente perché è uguale a quella di sopra per nostra comodità se per qualche motivo react deve rirenderizzare l'applicazione quindi incluso il componente grit vediamo come è stato fatto app vedete che ha lo use state dentro app io col bottone col count passerò anzi passo una callback che modifica lo stato modificando lo stato vuol dire che io cioè react vede che lo stato di app è stato modificato fa di nuovo il render di app facendo di nuovo il render di app riesegue il render di grit bed quindi va a vedere va a chiamare il grit bed e il grit bed va a eseguire di nuovo il console log perché l'abbiamo messo nella parte di render qui prima del return gsx e non nello use effect se noi ritorniamo al grit questo non viene più eseguito come vedevamo prima quindi rimettiamo il grit quindi ricarichiamo l'applicazione viene fuori il grittings la prima volta ma le altre volte non viene più fuori no quindi non c'è più grittings perché è una callback della use effect e sotto il controllo di react react sa quando la deve chiamare e la chiama solamente quando il componente fa render per la prima volta dopo che il render è stato fatto poi abbiamo detto tra parentesi strict mode due volte ok però non viene più chiamata perché perché se la scrivo così viene chiamata una volta sola dopo render la prima volta del componente ok benissimo guardiamo il count anche nel count ho messo due use effect sempre per sperimentare non è che voglio usare le use effect per fare i console log i console log nella vostra applicazione idealmente le esame neanche ci sono però ci servono a noi per capire cosa sta succedendo allora il count non ha niente di speciale il count mi visualizza il numero e poi il bottone l'ho addirittura messo dentro app quindi niente di particolare così non mi sono dovuto passare la props con lo click da chiamare dentro il count ok quindi il numero visualizza semplicemente il numero ho creato un componente per provare le use effect e ci sono due use effect my static number is con aperta e chiusa quadra cioè eseguita solo dopo il primo render seconda use effect eseguita tutte le volte che questo cambia che è props number ok quindi tutte le volte che il numero cambia e l'ho chiamata dynamic number ok così le distingo nella stampa ma anche il suo senso e in effetti come funziona proviamo ricarico quindi lasciamo perdere il grid all'inizio vedete che all'inizio c'è sia il my static number sia il my dynamic number due volte per lo stesso motivo di prima dello strict mode ma tra parentesi due volte lasciamo perdere due volte static è quella che ha all'aperta e chiusa quadra il dynamic è quella che ha la dipendenza vi ho detto prima ricordatevi che comunque chiamata una volta in ogni caso cioè se voi mettete qualcosa dentro lo use effect è sempre chiamato almeno una volta che voi non mettiate il parametro che lo mettiate o che lo mettiate con le dipendenze add mount quindi dopo il primo render è sempre chiamato e poi e poi dipende poi no perché dopo se schiacciamo più vedete che esce solo più il dynamic e non esce più lo static ok quindi è solo la seconda use effect che viene eseguita cioè entrambe le callback sono registrate con react su quel componente solo che react sa che una deve essere eseguita solo in un caso e l'altra deve essere eseguita all'inizio e tutte le volte che props num cambia quindi dopo che ha fatto il render di count andrà a vedere se props num è cambiato rispetto a prima se si la chiama ok e in effetti è quello che succede questo è un esempio di quello che posso fare qui dentro posso fare di tutto posso anche poi settare degli stati come qualcuno ha provato a fare in laboratorio aveva il problema poi ci torniamo sopra però aveva il problema del forma che non si aggiornava nello stato sulla base delle props che arrivavano che è normale perché le props in sola lettura le uso all'inizio per settare lo stato ma il componente se poi esiste e non viene distrutto e ricreato non prende più quel valore iniziale allora l'unica maniera che ho di aggiornare il valore di uno stato quando una props cambia è di farlo dentro la callback di una use effect che ha come dipendenza ciò che cambia ok oppure quello che vi avevo fatto vedere qualche settimana fa di forzare React a ricreare il componente che si faceva cambiando il valore dell'attributo key che fa sì che il componente venga distrutto e ricreato ma una soluzione un po' più drastica solo che adesso la dovevamo fidarci adesso possiamo capirlo perché sappiamo come funziona il ciclo di vita il ciclo di vita è questo cioè i componenti esistono iniziano a esistere vengono distrutti iniziano a esistere vengono distrutti quando vengono distrutti quando escono dall'albero del virtual DOM cioè non sono più da renderizzare se io ho messo un if qualcosa e non è più da renderizzare viene distrutto e poi si ricrea quando c'è bisogno ma se ne crea uno nuovo infatti il problema del form ce l'avevate quando il form restava visibile quindi non veniva distrutto se voi chiudevate lo facevate sparire poi lo riaprivate il problema non si presentava più perché il componente veniva ricreato ok quindi si ripassava per l'intero ciclo di vita ok adesso siamo in grado di capirlo ok guardiamo il gate come funziona il gate allora ricarico l'applicazione per ripartire sempre dallo stato che abbiamo che conosciamo stop questa è una scritta normalissima scritta se io ci clicco sopra viene fuori go e poi dopo un po' automaticamente torna stop ok come faccio a realizzarlo questo è il quick gate che è di nuovo il terzo componente della mia lista che ho scritto in questa maniera ha uno stato deve avere uno stato perché deve sapere se fa vedere o aperto open no scusate cos'era stop o go ok quindi aperto go chiuso stop ok quindi deve avere uno stato per decidere che cosa visualizzare o lo stato lo tengo in app o lo tengo nel componente qui ho deciso di tenerlo nel componente perché perché mi veniva comodo per così vi faccio vedere la use effect che setta uno stato ok allora return del componente on click open me quindi aggancio l'evento ci sarà la funzione che fa qualcosa se è open scrivo go altrimenti stop niente di speciale eh open me fa set open true io però ho registrato una callback con la use effect che fa questa operazione set timeout e dico alla set timeout dopo un secondo cioè mille millisecondi di fare set open false mi raccomando esso un sempre callback se scordate queste tonde non funziona più nulla quando clicco faccio true di conseguenza cambia il valore dello stato open si scatena il rendere per cui si aggiorna la visualizzazione viene fuori go al posto di stop e poi e poi qualcuno in maniera del tutto asincrona mi fa cambiare il valore di uno stato di react ma me lo fa cambiare in maniera controllata dicendogli alla react non scrivo freccia open uguale false scrivo freccia open uguale false non funziona devo scrivere freccia set open false perché devo chiamare react react mi aggiorna lo stato aggiornando lo stato decide se deve fare il rendere oppure no siccome lo stato è cambiato farà il render ok cosa succede? succede che qui in realtà tutte le volte che cambio open viene fatta questa operazione quindi in realtà avrei potuto scriverla un po' meglio questa callback perché il set timeout open false lo faccio sia che open diventi vero sia che diventi falso però se è falso dopo un secondo è di nuovo falso è ancora falso lo setto a falso non è il massimo adesso lo aggiustiamo però vorrei farvi capire che appunto non è così semplice scrivere bisogna sempre pensare a cosa avviene in termini di quello che abbiamo spiegato stamattina allora riguardiamo l'esempio così capiamo cosa sta succedendo allora noi partiamo con lo stop io schiaccio qui su stop va go e poi viene fuori stop allunghiamo un po' il tempo vale due secondi e in più quindi ricarico l'applicazione e in più apro il browser dei componenti e voglio fare vedere il quick gate la porta veloce che ha lo stato a falso ok poi c'è anche questo effect qui non c'è niente da vedere la use effect perché dovevo scrivere il codice la funzione eccetera in realtà la use effect ha poco da far vedere comunque va bene allora schiaccio stop quindi notate che stato diventerà true e poi dopo un po' da solo stato diventerà false ok quindi è diventato true e poi dopo un po' diventa false ok quindi voi nella callback dello use effect potete fare quello che ritenete opportuno ok incluso schedulare operazioni asincrone e questo ci apre la porta a caricare i dati sul server perché l'operazione di caricamento di dati sul server è un'operazione asincrona quando avremo i dati li inseriamo in uno stato infatti l'ultimo esempio è questo qui c'è un 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 campo in cui scriviamo qualcosa ogni volta che scriviamo qualcosa andiamo a inviare quello che abbiamo scritto al server a farci restituire le parole al contrario è un piccolo trucco in realtà non sono parole al contrario sono scusa i caratteri al contrario sono altri caratteri che assomigliano i caratteri al contrario vabbè comunque vediamo come funziona quindi io adesso scrivo A e mi compare A a rovescio B in realtà è una Q però diciamo c'è una piccola libreria lato server che lo fa per noi non mi sono messo lì a codificare queste cose però voglio farvi vedere cosa sta succedendo se io faccio delle operazioni posso scatenare eventi asincroni che vanno a interrogare il server mi fanno dare una risposta attendono una risposta quando questa risposta viene inviata io la visualizzo diamo un'occhiata al codice allora il text flipper cos'è il text flipper è un div che ha un testo con un input type text value text questo è un normalissimo campo di un form col suo stato value text const text e test all'inizio è vuoto ok poi c'è il campo del testo girato che è flipped flipped è un altro stato in cui ho messo metto la risposta del server perché voglio mantenere sia quello che ho scritto nel mio campo sia quello che arriva dal server e poi c'è uno stato waiting su cui possiamo poi parlare magari dopo ok questo handle change è il classico modo col quale facciamo i form quindi è un form controlled non ho messo il tag form quindi non c'è il submit questa cosa qua ok va bene però voglio fare un esempio semplice per limitare la complessità della cosa se text mi dice che tutte le volte che cambia qualcosa io cambio il valore di text e poi come faccio a fare in modo di andare a fare delle operazioni sulla base del fatto che text è cambiato ho due possibilità ho qui schedulo direttamente un'operazione nell'event handler e questo si può fare non è vietato si può tranquillamente fare non l'ho fatto perché sto spiegando la use effect se no forse sarebbe stata la maniera più comoda di fare le cose ma volevo farvi vedere che in dipendenza del cambio di qualcosa incluso uno stato io posso andare a fare delle altre operazioni ok quindi qui ho messo use effect quando cambia text vai a fare che cosa una fetch di che cosa localhost 3001 flip quindi avrò un serve che risponde su 3001 barra flip che prende un parametro che si chiama text e mi dà indietro un json con la risposta ok che sarà una stringa sarà una stringa sì 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 sarà una stringa che no scusa sarà un json che ha un campo ok si chiama text in cui ci sarà la stringa girata e io cosa la faccio faccio set flipped e la metto in uno stato mettendola in uno stato automaticamente react fa render di nuovo e me la visualizza ok come prima per stop e go quando io cambiavo qualcosa cambiò qualcosa nello stato la visualizzazione veniva aggiornata coerentemente con lo stato quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo poi lo spieghiamo con calma è tutto riportato nelle slide per cui non c'è bisogno di prendere troppi appunti perché le slide successive ci raccontano questi esempi però mi piaceva farveli vedere prima di raccontarvi perché se no non capiamo di cosa stiamo parlando allora questa volta apro il tab network ok ricarico l'applicazione e all'avvio l'applicazione fa mille cose va bene ma quello su cui dobbiamo concentrarci è questo il resto è diciamo è tutta roba di react development carica i file carica il codice eccetera questa è l'api che è stata chiamata get http localhost 3001 flip punto interrogativo text uguale uguale basta ok non c'è non c'è una request body perché una get ci sono solo gli header col get col text vuoto ok col text vuoto perché perché la use effect parte parte sempre parte al primo render il primo render contiene flipped stringa vuota e farà no scusate contiene text stringa vuota farà text stringa vuota con catena con tutto il resto mi fa la richiesta sul server perché ne fa due di nuovo per lo stesso motivo di prima perché al mount la use effect viene chiamata due volte ma se faccio delle get non è un problema qui vedete l'importanza di usare i metodi corretti se sono get non modificano lo stato del server io posso farlo anche due volte non succede nulla do un po' più di lavoro al server ma non succede nulla va bene poi arriviamo al waiting dopo fetch await ci sarà una response l'oggetto response che ha body nel body non andiamo a vedere nulla perché usiamo punto json ci facciamo convertire tutto in un oggetto javascript dal json che sarà questo response body questo response body è un campo text che lo usiamo per impostare il flipped ok andiamo a vedere la risposta la risposta è questa guardatela in formato grezzo aperta graffa virgolette text due punti virgolette vuote ok quindi come vi dicevo prima facciamo in modo che il server restituisca un oggetto che contiene un campo che si chiama text il cui valore è la stringa al contrario è girata lì in giù che poi in realtà è un'altra stringa ok ogni volta che cambiamo il valore di text quindi io faccio un cambio viene fatta una richiesta al server viene data una risposta siccome il componente esiste già questa volta come abbiamo detto prima come è successo prima per il più eccetera la callback viene chiamata una volta sola ma abbiamo di nuovo detto semplicemente perché usiamo questo strict mode ok se no è sempre chiamata una sola volta ok a, b, c quello che volete ok quando arriva la risposta verrà impostata la risposta l'ho fatta apposta lenta per far vedere che cosa succede ok quindi questi sono gli esempi di come usare la use effect che avete a disposizione sono già da ieri sul github torniamo sulle slide e cerchiamo di commentarli bene e poi ci mancherà 20 minuti un po' meno facciamo la modifica nel nostro progetto che è poi quello che fate in laboratorio giovedì per caricare i dati dal server e non solo questi giochichietti giochichietti diciamo così di 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 componenti ok quindi questi sono gli esempi che abbiamo visto prima il github l'abbiamo già commentato era qua avete il codice uguale il count quindi qui vi ricordo tutte le volte che c'è aperto e chiusa quadra viene eseguito una sola volta al mount al mount che vuol dire dopo che è stato fatto il primo render quindi stamperà solamente il valore iniziale invece qui ogni volta che cambia props num viene eseguito il codice della callback della use effect che infatti il risultato è quello che vediamo questa è la serie esatta delle operazioni che avvengono mi raccomando è importante capirlo prima il componente creato e montato oppla poi la funzione count è chiamata con le sue props la use effect è registrata e non eseguita quindi la callback non è eseguita in quella maniera noi scriviamo use effect con la callback e la callback è registrata cioè react se la prende e se la mette da parte non viene eseguita in quel momento si ritorna il jsx col numero 3 il componente è stato appena montato e quindi fa girare tutte le callback di tutte le use effect quindi della prima use effect questa qui di sopra e della seconda use effect che è quella di sotto perché tutte girano almeno una volta all'inizio poi puntini l'utente farà qualcosa e quando decide di premerci il bottone quindi fa click in app si aggiorna il valore dello stato num num diventa 4 react capisce che deve fare il render di count che perché ha una prop che è uno stato che è cambiato quindi chiama di nuovo la funzione count l'account viene chiamata viene ritornato il jsx 4 le use effect non hanno nessun effetto perché sono già state chiamate prima la callback è già stata registrata ragazzi ricorda che quella callback l'ha già registrata il riferimento è la stessa funzione per cui non ha bisogno di sapere altro e il props num è cambiato e quindi react sa che c'è una callback in attesa di essere eseguita quando props num cambia che è quella della seconda use effect e quindi verrà chiamata la seconda use effect e verrà fatta la stampa ma solo della seconda ok mi raccomando provate a pensarci c'è una domanda si viene eseguito ma qui sotto quindi run first effect run second effect qui viene fatto il console log e qui lo static e qui viene fatto il dynamic e poi qui sotto verrà fatto il console log del dynamic ok cioè la differenza è sottile nel senso che non viene eseguita durante il render ma dopo il render all'atto pratico lei non ha modo di saperlo se non glielo dicessi perché vede questa stampa per lei che sia venuta prima o dopo non si può vedere dalla stampa no? perché non ho fatto nulla prima ma se io volessi proprio vederla potrei mettere un console log durante il render anche se è un side effect da non fare però per provare lo metto durante il render lo metto sì durante il render prima del return e vedrò che quel console log che ho messo prima del return viene eseguito prima della prima stampa dello use effect ok quindi lo use effect avviene viene chiamato cioè la callback della use effect viene chiamata dopo il render e non durante questo è da ricordarsi perché se lei assume che sia chiamata durante assume che magari certe variabili siano cambiate in realtà non è vero perché la chiamata avviene dopo e quindi l'aggiornamento di queste variabili e così via avviene dopo bisogna sempre ragionare in questo modo asincrono cioè le cose verranno eseguite ma al tempo debito ok grazie per la domanda perché ci aiuta a fissare le idee qui capite perché bisogna pensarci un po' sulla use effect e la prossima volta la riprendiamo perché bisogna capirla proprio bene quindi una variabile di stato può essere listata come dipendenza e questo l'abbiamo visto e possiamo anche schedulare un aggiornamento dello stato come abbiamo fatto col set time out con la porta stop go e quando l'aggiornamento dello stato cambia cioè il valore dello stato cambia il componente viene rirenderizzato aggiungo dopo ci si aggiungo ancora ma dopo ci sarà se l'aggiornamento non avviene perché l'abbiamo schedulato noi ma perché avviene per motivi esterni come sono stati caricati i dati del server la cosa è uguale identica come facevamo col flip head cioè non abbiamo deciso dopo un secondo avviene non sappiamo dopo quanto avviene il server ci risponderà prima o poi ci risponderà e noi abbiamo collegato nella risoluzione della promise della fetch l'operazione di settaggio dello stato stessa cosa l'importante è che facciamo sempre il set dello stato con le funzioni react così react sa che lo stato è cambiato e sa che deve fare render e quindi ci visualizza l'informazione questo è il quick gate di prima qui c'è tutta la timeline non so se è il caso di addentrarci comunque direi che ve la guardate quindi provate a pensarci perché questa appunto è un po' più difficile è un po' più difficile perché vi ho detto prima è lasciata apposta così per farvi capire che comunque viene eseguita l'operazione che ho messo nel set timeout e se non cambia lo stato semplicemente non viene eseguito il render quindi ogni tanto può venirmi comodo fare anche così per semplificare il codice diciamo che se clicco molto velocemente può darsi che succedano poi dei pasticci perché se ho più set timeout che vogliono fare cose differenti è chiaro che c'è il rischio che una faccia prima dell'altra per cui bisogna fare un po' attenzione a come scriviamo questo codice però questa è la maniera più semplice di scriverlo ma così avete coerentemente con quello che ho scritto la timeline di quello che avviene ve lo lascio da guardare a casa se no non riusciamo arrivare a fare l'esempio attenzione che diciamo dovete evitare di fare operazioni nella callback che scatenino dei cicli infiniti perché è chiaro che se nella callback voi potete modificare uno stato che avete messo nella dipendenza e questo stato continua a essere modificato senza che ci sia una condizione per la quale a un certo punto si smette di modificarlo create un ciclo infinito ma questa cosa vi è già successa anche in altre occasioni come quando fate render se in un handler modificate uno stato che crea una modifica per la quale poi si genera un altro evento e così via andate in loop anche in quel caso ok quindi avete un on change e poi andate a modificare uno stato sul quale avete un on change registrato si crea il loop anche in quel caso anche senza la use effect bisogna solo farci attenzione ma ve ne accorgerete subito perché react e poi in console vi dirà attenzione troppi render ho smesso guarda che c'è probabilmente qualcosa che non va perché è un limite sul numero massimo di render che si possono scatenare a seguito di un certo evento proprio per evitare questi loop però è un errore di programmazione che va corretto ok fate attenzione ad includere nelle dipendenze tutti i valori che cambiano e che sono usati dalla effect ok perché altrimenti c'è il rischio che quando la callback gira non abbia considerato tutte le modifiche che dovranno essere effettuate fino a quel momento per esempio modifiche di stato e così via perché tutte avvengono in maniera sincone se io lo dico react react dice ok prima finiamo di fare tutte le modifiche ai valori delle dipendenze e poi faccio girare la callback ok questo è il motivo per cui se voi non le listate tutte esplicitamente se se ne accorge vi stampa poi un warning perché c'è il rischio di capitare in questo caso ok fetch qui dunque ah si poi c'era il flipper va bene allora diciamo che noi vogliamo caricare dei dati del server bene semplice no nel momento in cui vogliamo caricare del server siccome è un effetto collaterale cioè io voglio che questa funzione sia eseguita un effetto ma voglio controllare quando viene eseguita la metto dentro una callback della use effect e nella use effect decido quando viene eseguito per esempio qui ho deciso che tutte le volte che cambia la query che sarà questa è una props voglio ricaricare le informazioni del server va bene ci sta faccio le mie operazioni al termine di queste operazioni di solito imposto uno stato che è quello che contiene i dati da visualizzare che ho caricato ed è lo stesso meccanismo che abbiamo usato per il flip di prima quindi qui posso decidere se voglio dipendere da qualcosa o semplicemente se voglio dipendere da nulla quindi se voglio dipendere da nulla metterò aperte chiusa quadra array vuoto e solamente al mount la prima volta del componente quindi primo render caricherò i dati come di solito succede quando aprite un'applicazione voi aprite un'applicazione vostra del laboratorio films la prima cosa che volete fare è caricare i films banale ecco c'è solo una cosa a cui fare attenzione non so se l'avete notata l'argomento della callback della use effect non può essere una funzione asincrona ok però possiamo aggirare questo problema definendo una callback che non è asincrona che al suo interno definisce una funzione asincrona e poi ce la chiamiamo hanno creato la use effect così ok potete farlo loro lo fanno fare a noi ok quindi nell'esempio ecco del text flipper io volevo usare await per scrivere await ho bisogno di essere dentro una funzione asincrona se no il codice javascript mi dirà guarda non puoi mettere await perché non si è detto una funzione asinc ma io non posso scrivere use effect aperta tonda asinc aperta tonda freccia ok perché? perché la use effect non può prendere una funzione asincrona è fatta così quindi faccio aperta chiusa tonda freccia a questo punto non posso cioè devo prima definirla la funzione quindi la definisco asinc eccetera e poi la chiamo e questo posso farlo ok quindi questa è la maniera se volete usare la fetch con la await se no potevate tranquillamente aprire la chiusa tonda e fare fetch eccetera eccetera punto den se vi piace il punto den e lì dentro scrivere tutto quello che volete ok e questo è il codice che abbiamo visto e questo codice è lato server che non abbiamo visto ma ce l'avete e quindi se voi andate nella cartella server qui sotto avete il server molto semplice flip ok number in realtà serviva a fare qualche esperimento visto che è rimasto lì cosa fa text rec query text ecco questo qualcuno in laboratorio ha chiesto come devo scrivere come faccio a scrivere gli url col punto interrogativo eccetera e prendere il valore rec query come rec parans se ne metto due punti parametro se ne metto punto interrogativo copie nome e valore uso rec query rec query text e poi ho questa funzione flip che in realtà è un modulino che mi fa questo giochino di girare le lettere ok e poi risposta se voglio rallentare la risposta poi il set timeout è sempre a disposizione io dico definisco una callback che faccia res json eccetera cioè da la risposta non immediatamente ma dopo un secondo non blocco il server non voglio fare un qualcosa tipo un for infinito un for per fare cose inutili no perché così blocco il server schedulo la risposta schedulo una callback ok le risposte più lente le facciamo poi io direi che a questo punto andiamo a modificare il nostro serve il nostro codice quindi abbiamo slide examples non è da toccare da vedere se volete ve lo clonate provate per conto vostro questo è quello che andrete a fare in laboratorio il server è quello dell'altra volta non lo toccate ok anzi o meglio non lo toccate in realtà dobbiamo toccarlo per la questione del course quindi lo toccheremo sì però è una operazione rapidissima prima però vi tocco il client eh vi ho già messo a disposizione eh alcune funzioni per rapidità eh che di fatto fanno la fetch degli urli che ci interessano no quindi fetch http io ho messo il server su 3001 localhost 3001 barra api barra questions il lato server se quello dell'altra volta c'è barra api barra questions che faccio girare sul 3001 localhost dovrei essere in grado di contattarlo va bene ok vi invito a tenere tutte le funzioni che parlano col server in un file a parte in un modulo a parte ok quindi se io le definisco in questa maniera poi faccio const api eccetera export default api in app quando ho bisogno eh eh quindi lo metteremo qui use effect adesso diciamo se io ho bisogno di scrivere eh di andare a recuperare delle informazioni dal server posso scrivere api punto se ho fatto bene le cose no non ho importato api ancora quindi lo importo import api senza le graffe perché l'ho esportato come default from eh cos'è punto barra api ok ok allora api punto ecco get all questions no così tutte le volte che vedo scritto api punto per mia comodità nel codice è un po' più pulito so che sto andando a fare una richiesta verso il server io ho scritto tutte le richieste in maniera che mi ritornino o un oggetto o un array a seconda dei casi oppure lancino un'eccezione ok così poi decido io come gestirle quando le chiamo ok ok quindi facciamo una cosa semplice no allora diciamo che qui cominciamo a caricare la domanda ma poi carico le risposte ma ci va poco question id question id diciamo const question id uguale a 1 in questo momento l'ho fisso poi nel codice farete poi cosa è richiesto dalla vostra applicazione però io siccome adesso ho due domande devo dire quale caricare a questo punto devo decidere come voglio gestire il valore di ritorno ok devo sapere come è stata fatta la get all questions ah ecco no mi sono dimenticato di dirvi questo l'ho fatta come funziona asincrona ok così mi sono avanzato ad iscrivere return new promise perché perché alla fine sarà comunque un'operazione asincrona ok io è vero che per comodità voglio l'oggetto e non il json cioè non la stringa json di cui fare il parsing io eccetera perché tanto il response me lo da già se io scrivo response json funziona già se tutto è andato bene però questa è una promise perché io ho fatto una funzione asincrona quindi punto den punto den prendo quello che arriva che sarà un oggetto la question set question ok set question come ho fatto prima col set text set flipped il set text non era il set flipped arrivato dal server set question q ok mettete sempre almeno un catch come minimo con un console log all'esame si apprezza un po' se avete proprio non solo riempito di console log la gestione degli errori ma su questo ritorniamo poi adesso questo al mount di app ah no scusate ho dimenticato una parte importante questa è la use effect questa è la callback se non scrivo nulla tutte le volte viene eseguito questo non va bene devo farlo solo la prima volta io non voglio che ogni volta che si rifà render di app mi ricarica tutto che senso ha ci sono sempre lì a chiedere al server questo non ha senso ok proviamolo adesso non funzionerà ma ci mettiamo poco e lo facciamo funzionare allora intanto devo portarmi in react qa client ho già fatto l'npm install per velocizzare perché poi lo so che mi manca sempre il tempo rrpm run dev devo lanciare il server quindi anche sul server devo entrare nel mio server di react qa server e lo stesso dell'altra volta react qa server che ho solo messo in una cartella questo è uguale identico fino a che non facciamo questa modifica node mon server js ho sbagliato js ok proviamo e non funzionerà quindi adesso non funziona perché qual è il problema allora la richiesta dove answer root richiesta verso no mi sa che manca ancora qualcosa console use effect ecco ovviamente la use effect è come la use state e di react dovete ovviamente importarla per poterla usare ok qualcosa si è caricato ma a me non interessa farvi vedere questa che si è caricato perché in realtà non si è caricato per davvero perché vedete i messaggi cross origin cross origin request course perché perché la richiesta è stata fatta verso question response body is not available to script reason course missing allow origin ok le api mie non consentono la richiesta da un host che sia un origin che sia diverso quindi localhost è una porta diversa devo aggiustare il server due righe velocissime dove è il server const course uguale require course app use course ok salvo avevo già installato devo fare npm install course ma l'avevo già fatto per mia fortuna così risparmio tempo riprovo a sto giro question ha la sua risposta ok question in realtà me le da entrambe ok infatti io ho un array e non un oggetto infatti non funziona più ask it by eccetera non funziona più ok perché ho svegliato ipi io volevo app volevo andare a fare question get all question no get question question or question ok che è uguale l'unica cosa che va a cercarne una specifica dove è andata in api get question gli da l'id e mi da solo quella giusta ok infatti adesso viene fuori ok controllate sempre cosa avviene in rete io quando arrivate all'esame dove è andato non c'è più ah uno questa qui ok get api questions uno request non ha non ha body response questa qui ok io vi assicuro che voi arrivate all'esame ma anche il mio collega se ci sarà eccetera noi apriamo l'applicazione apriamo il tab network mentre usiamo l'applicazione perché dobbiamo capire cosa sta succedendo noi non l'abbiamo fatta noi avete libertà di fare l'api come volete tutto quello che volete perché noi dobbiamo capire cosa sta succedendo vi faccio vedere cosa capita se ci fossimo scordati le graffe come stavo per fare prima io ok ricarichiamo l'applicazione è andato in loop ok perché perché noi facciamo una set dello stato in app ok che scatena render di app e render di app scatena la chiamata la callback perché non ho detto di farlo una volta sola ma ho detto scordandomi le quadre di farlo sempre se arriva una cosa così all'esame sicuramente siete penalizzati eh non bocciamo nessuno come abbiamo detto cioè bocciamo per una somma di problemi ok non bocciamo per un singolo problema diciamo così però sicuramente una roba così vuol dire che non avete mai aperto il tab di network cioè sul lato server il server sta continuando a ricevere richieste questa cosa è inconcepibile ok lo so sembra banale ma poi capita eh magari non quando aprite l'applicazione che è il test che fate sempre ma cominciate a navigare a fare due tre cose da qualche parte e poi vi scordate che c'è un punto che dovete aggiustare dovete sistemare e così via quindi assolutamente ok ehm giusto per verificare che funzioni quindi adesso ricarichiamo qui fate sparire la question list ok se question list sparita funziona vuol dire che c'è qualcosa che va cioè che viene caricato del server perché non va perché io ho l'inizializzazione dello stato qui no e allora con cosa inizializzo questo stato ah all'inizio dell'applicazione non ha questions potrei mettere undefined ma non mi piace perché poi l'avrò usato in qualche map in qualche lista e così via metto aperta e chiusa quadra un array vuoto perché poi lì dentro ci finirà no scusate un cosa posso mettere no sì avevo messo l'array vuoto in realtà sarebbe meglio mettere un oggetto vuoto va bene ok ma fa lo stesso perché in realtà la question la question la uso per poco la questione cioè il problema scusate gioco di parola il problema è poi sulle risposte le risposte sono un array se non metto un array quando faccio la map e poi la map mi fa non c'è il metodo map ok va bene allora vediamo se funziona ok ha ripreso funzionare quindi scartate tutte le richieste prima che sono il caricamento avrete due get su server ma su questo ci possiamo far poco se vogliamo farlo funzionare in strict mode è così punto ma se sono get non è un problema c'è la doppia richiesta lo sappiamo ovviamente a che lo usiamo e lo sappiamo sarà così non ce ne preoccupiamo l'importante è che non capiti con le post con le put beh con le put le post che non sono idempotenti ogni volta che facciamo un'operazione cambiamo qualcosa sul server e quindi dovete solo fare la modifica anche per l'altro stato che possiamo poi tranquillamente fare anche qui dentro noi non è che dobbiamo fare una sola cosa API anzi possiamo anche farla tant'ora mai siamo qui answer by questions id question id question id punto den qui ci sarà l'answer list ok freccia set answer list answer list ok catch mettete sempre almeno una catch perché soprattutto all'inizio vi aiuta andate a vedere in console capite se c'è qualcosa che non va idem qui mettiamo vuoto e riproviamo e dovremmo aver finito riproviamo ok avete visto che ci ha messo un attimo di tempo a caricarsi però tutti i miei dati li ho caricati da answers ok andate sempre a vedere qual è la risposta cosa c'è tutto funzionato e così via ok questa è la piccola cosa che dovete fare piccola per modo di dire dovete fare in laboratorio giovedì farlo funzionare per i vostri fields non è ancora richiesto che facciamo funzionare gli altri bottoni perché sono una complicazione che ci richiede una lezione intera praticamente ok per farlo bene chiaro che per fare il delete funziona i bottoni funzionano ma funzionano locali non funzionano sul server cioè se ricarico l'applicazione lo stato riparte da prima però lo prende dal server ok bene faccio il commit e direi che per oggi basta se non avete domande avete tutto quello che serve a fare il laboratorio e ci vediamo martedì prossimo sempre qui grazie 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 a tutti